Chiedere un commento su questa partita, io direi che il Pescara è partito bene con il nuovo modulo, voi avete preso le contromisure, potevate sicuramente chiudere la partita nel secondo tempo dopo il rigore è tornato un po' in cattedra il Pescara. Giusto, hai detto bene, abbiamo fatto l'1-0, abbiamo occasioni per fare 2-0, non l'abbiamo fatto, loro prendono un rigore e così cambia tutta la partita, purtroppo è così il calcio. Ci sono state delle proteste nel finale di partita all'indirizzo del direttore di gara, proteste relativamente al rigore dato al Pescara? Come detto prima, io non ho visto ancora in televisione che era un rigore o no, quando era un rigore non possiamo fare niente, è fischiato, adesso possiamo parlare di questo ma alla fine cambia niente per noi, abbiamo perso i due punti in più e questo mi dispiace. Parliamo dell'approccio, non avevate preparato così la partita, nel senso non vi aspettavate Marras così libero di agire dietro le due punte? No, abbiamo il nostro play lì, ma abbiamo provato anche noi qualcosa altro, che io mi abbasso un po' di più, l'altro facciamo un po' più alto, che giochiamo anche noi un po' più il calcio. Abbiamo fatto anche bene, penso abbiamo avuto tante, non tante occasioni nel primo tempo, ma siccome abbiamo avuto occasioni, noi abbiamo fatto la partita, solo che manca sempre il pass finale di fare il gol. Vittoria che ormai manca da diverse settimane, situazione di classifica che resta precaria per il Foggia, pubblico che non ha apprezzato, gradito molto al 91esimo questo pareggio. Sì, vogliamo tutti vincere, i tifosi, noi, tutto il club, ma mi dispiace solo per i tifosi che fanno per noi sempre un casino, stanno in tanti qua, ieri all'allenamento, quindi mi dispiace per loro che non abbiamo vinto questa partita contro Pascale.